Wabalaba dub dub e bentornati su No Mamamazzo, continuiamo a parlare di Falcon and the Winter Soldier, episodio 5, penultimo episodio di stagione e magari anche di serie, perché se non ne fanno una seconda è il penultimo episodio di tutta la serie, dal titolo Verità. Se non l'avete ancora fatto, prima di cominciare, iscrivetevi al mio canale cliccando qui sotto e sempre qui sotto, un po' più sotto in descrizione, trovate anche tutti i link per iscrivervi a tutti i miei social. Ora, The Falcon and the Winter Soldier, episodio 5, dal titolo Verità. Io l'avrei anche intitolato Conseguenze, perché effettivamente in questo episodio si affrontano le conseguenze di quello che è successo nel finale dello scorso episodio. In particolar modo mi riferisco a quello che ha fatto il nuovo Captain America, conosciuto anche come John Walker, che con lo scudo di sua proprietà, ma con lo scudo di Steve Rogers, con lo scudo del vero Capitano America, ha ucciso uno dei Flag Smasher in pubblica piazza, quindi di fronte al mondo che lo guardava, titolo appunto dello scorso episodio. Qua affronta le conseguenze delle proprie azioni. Per quanto quello che possa aver fatto, dal suo punto di vista, fosse un'azione di guerra a tutti gli effetti, non stava assolutamente uccidendo per difendersi dalle linee nemiche. Ha ucciso fondamentalmente per rabbia una persona disarmata. Ed è per questo che gli Stati Uniti, ovviamente almeno in questo, non l'hanno assolutamente difeso, anche perché in questa situazione, in queste serie TV, il governo è sempre rappresentato come qualcuno che fa delle cose brutte, ma non in pubblico. Nel momento in cui le fai in pubblico, il governo ne prende le distanze. Ed è quello che è successo, tant'è che appunto John Walker è stato degradato e allontanato dal suo ruolo di Capitano America. E se non sbaglio a tutti gli effetti ora è diventato un civile, perché il governo americano non vuole più aver niente a che fare con quello che ha fatto John Walker. John Walker, prima di andare a processo, ha intavolato anche un fantastico scontro nella scena di apertura tra Falcon e The Winter Soldier, che hanno finalmente lottato per lo scudo. Scena che ci doveva essere, perché è il succo di quello che c'è fin dall'inizio. Cioè di Bucky che vuole lo scudo a tutti gli effetti, di Sam che invece lo rifiuta, ma dopo quello che è successo capisce che deve riprenderselo. Scena tra l'altro di scontro a tre, che mi ha ricordato molto il finale di Civil War, sempre tra Winter Soldier, Captain America, Steve Rogers e Iron Man. Quindi c'è stato un po' questo lieve richiamo, ovviamente con un esito differente. La cosa bella di questo scontro è che quando finalmente Bucky riesce a prendere tra le mani lo scudo di Captain America, sfilandolo appunto dalle mani di John Walker, a cui ha anche rotto un braccio, tra l'altro braccia rotte, braccio mancante di Bucky, braccio rotto di John Walker, lo tiene in mano per qualche secondo e poi capisce che è di Sam e lo fa cadere a terra, lo dà a Sam, una scena che mi è piaciuta molto. Con lo scudo tra le mani di Sam si torna a riaffrontare il tema che era stato solo fatto un pochino percepire nella puntata 2, il tema razziale che era presente quando si è conosciuto il personaggio di Isaiah, il primo Captain America nero nascosto agli occhi della, appunto anche qui, del pubblico, perché soggetto a esperimenti sempre da parte del governo statunitense, unico soggetto tra tanti sopravvissuto al siero del supersoldato. Qua si spiega cosa è successo, cosa giustifica il fatto che sia stato in galera a 30 anni, ovvero il fatto che il governo voleva sbarazzarsi di tutti gli altri supersoldati che erano stati imprigionati, quindi più o meno quello che è successo al primo Captain America. Captain America ha disubbedito agli ordini per andare a salvare il suo plotone. Isaia ha fatto la stessa cosa, è andato a salvare il suo plotone perché erano stati catturati, ma lo stesso governo voleva ucciderli per eliminare le prove, quindi lui li ha liberati e per questo, quindi per aver fatto questa cosa qui, si è preso 30 anni. Quindi anche qui la differenza tra la sorte di Steve e la sorte di Isaia. Qua il tema razziale è affrontato in modo molto aperto, fanno vedere come sia tuttora difficile nel 2021 per un uomo di colore tentare di essere un simbolo per l'America e non riuscirci, perché non verrà mai accettato dalla totalità degli americani. Un tema che abbiamo anche visto, se non sbaglio, nella saga Fumetti, quando Falcon prende appunto il ruolo di terzo Captain America dopo Bucky. È chiaro che quello che dice Isaia non viene condiviso da Sam, altrimenti poi non lo vedremo nel prossimo episodio con il ruolo di Captain America, perché si sa che la serie sta andando in questa direzione. Però questo momento di riflessione tra i due personaggi è stato molto interessante. Come Sam creda che il mondo sia cambiato e come Isaia gli fa capire che in realtà non è cambiato nulla. E purtroppo, lo abbiamo visto anche nella realtà, non è vero. Ogni tot anni c'è sempre una rivolta razziale perché c'è stato un crimine di odio da parte dell'uomo bianco. Lo abbiamo visto con il caso Black Lives Matters, che in questo contesto della saga dell'Infinity Saga, ovviamente, diciamo, può essere non successo dal momento che parliamo di un lasso di tempo in cui tutta la popolazione era snappata. Quindi qui siamo in un mondo dove forse gli eventi del Black Lives Matters non sono apertamente successi, ma c'è sempre questo tema dell'odio razziale che non smette mai. Sam cerca, nonostante tutto, di essere colui che fa la differenza. Lo ha apertamente detto anche nel discorso con la sorella. Lui sa che non ci riuscirà, ma il fatto stesso che ci provi è un piccolo passo per far cambiare le cose. Ed è per questo che nel prossimo episodio sicuramente lo vedremo in qualità di Capitan America. Un altro tema appunto scottante di questa serie, che è anche il valore aggiunto che ha rispetto ad altre, che finalmente si è smesso di nuovo di parlare di mostri, di alieni, di robottoni che invadono la Terra, ma si parla di problemi reali, quindi di supereroi con superproblemi, e sono anche superproblemi assolutamente terreni che noi viviamo. Questo problema delle persone tornate con il blip e che si sono ritrovate appunto stranieri in casa propria è un chiaro riferimento al tema dell'immigrazione, tant'è che Carly sostiene questa cosa, dice continuano ad attaccarci perché abbiamo l'unica colpa di essere cittadini di questo pianeta. è un chiaro riferimento al problema dell'immigrazione, agli stati che devono gestirla e alle varie fazioni politiche che hanno ognuno un proprio pensiero su queste persone che si trovano a vivere questa condizione. Ma parlando di terre straniere parliamo anche di Sokovia, di come ritroviamo Zemo, che appunto è scappato nello scorso episodio, a commemorare il monumento di Sokovia per tutte le vittime che ci sono state negli eventi di Avengers Age of Ultron. E come ha detto lo stesso Zemo in qualche episodio fa, Sokovia ormai non esiste più perché tutti gli stati attorno l'hanno inglobata, hanno preso il territorio di Sokovia perché dopo quegli eventi è stata appunto, è stata inglobata dalle nazioni vicine. È anche un modo molto comodo per cancellare una nazione che nella realtà non esiste e che sarebbe stata poi difficile magari da gestire in futuro. Qui vediamo Zemo di fronte a questo monumento che stava già aspettando Bucky Barnes che in una fantastica scena sembra che voglia toglierlo di mezzo, ma finalmente gli dimostra che non è più il soldato d'inverno e che fa la cosa giusta, quindi non lo uccide ma lo consegna all'Uakanda. La trama di Zemo viene chiusa in questo episodio ed è giusto così perché nel prossimo è giusto che ci si concentri sui protagonisti che danno il titolo alla serie, quindi solo su Falcon e Winter Soldier e su John Walker perché sicuramente lo vedremo ancora nei panni di Villain nell'ultimo episodio. Mi piace che la trama sia chiusa, che Zemo sia ancora vivo, il carisma che ha ottenuto in questi episodi, spero che sia arrivato a un punto tale che magari lo vedremo ancora come comparsa in qualche prossima serie o film Marvel, da notare che le Dora Minaji lo porteranno al Raft e non in Wakanda. Forse è un modo per non toccare troppo il tema Wakanda prima del tempo, prima che uscirà Black Panther 2 dal momento che c'è stata la prematura scomparsa del protagonista Chadwick Boseman e il fatto che lo porti in Or Raft, che è fuori New York, è una prigione molto vicina a New York, può fare in modo che Zemo torni a interagire con i protagonisti, con gli Avengers. Quindi in questa puntata abbiamo visto, diciamo, la redenzione assoluta di Sam, lo stesso Zemo con Abile, col fascino che ormai lo ha contraddistinto, si è permesso di depennare il nome dalla sua lista di cose che aveva Sam, scusate, che aveva Bucky in sospeso per la sua redenzione. È stata una scena molto bella che conclude questo strano rapporto tra Zemo e Bucky Barnes. Parlando invece di rapporti, si è visto anche approfondire, finalmente chiudere un po' anche il cerchio di antipatia tra Sam e Bucky. Hanno finalmente parlato apertamente del motivo per cui a Bucky Barnes ha dato fastidio che Sam abbia dato via lo scudo, e finalmente Bucky dice a un momento con Sam per dirgli quanto uomo bianco, non aveva mai capito quanto fosse pesante l'eredità dello scudo per un uomo di colore in America. E questo momento è stato molto bello. È stato anche molto bello che ne parlino apertamente in una serie fondamentalmente di supereroi, dove ci hanno abituato a temi molto più fantasiosi. Qua invece ho visto proprio la Marvel dei fumetti, la Marvel che tocca i temi attuali, i temi dell'attualità, i temi della società. La Marvel ha sempre fatto questo, rispetto anche alla DC Comics. La Marvel è sempre stata molto più terrena, anche negli scontri molto più ultraterreni. È sempre stata molto attaccata ai fatti di cronaca, ai fatti di attualità. E finalmente questa serie mi ha ricordato un bel fumetto della Marvel di quello degli anni 70. Sam ha chiesto un ultimo favore all'Edora Minaj, all'Uakanda, ed è chiaramente il costume di Captain America fatto per Falcon. Lo vediamo in questa valigetta bianca, non lo vediamo in tutto questo episodio, lo vedremo sicuramente in una fantastica entrata nel prossimo episodio, ma è chiaro che è quello. E il fatto che il costume di Captain America di Falcon sia stato fatto dal Wakanda non è una cosa da dare per scontato, è una cosa molto importante. Se ci pensate, ormai anche a livello sociale, anche a livello esterno alla narrazione, Chadwick Boseman purtroppo ci ha lasciato. Quindi una figura importante di uomo di colore che rappresenta i supereroi al momento è Anthony Mackie, che interpreta appunto Falcon. E il fatto stesso che è stato il Wakanda a creargli il nuovo costume di Captain America è una cosa molto molto importante. È come se gli si desse un riferimento al fatto che a livello di retaggio potrebbe avere lui l'importanza che ha avuto Chadwick Boseman dopo che ha fatto Black Panther in futuro. Almeno finché il ruolo di Black Panther non venga appunto di nuovo calzato magari da un nuovo attore piuttosto che gestito in modo differente. Ma in questo modo anche chi ha dato tutta questa importanza al film Black Panther e al Wakanda e si è ritrovata orfana dopo la morte di Chadwick Boseman può contare su questo nuovo Captain America, su questo Sam Wilson col costume Wakandiano di Captain America. Un'altra scena in cui apertamente ci dimostrano invece che il personaggio di Sharon che a me tanto piaceva in Captain America 2 e 3 è diventato una stronza totale. Molti dicono che sia Power Broker, onestamente inizio a pensarlo anch'io o che quantomeno se non è Power Broker perché penso che Power Broker sia una persona molto potente che c'è da sempre a Madripor ma sia anche una carica, un ruolo e probabilmente se lei non lo è stato dall'inizio probabilmente ne ha preso il ruolo di recente e ora a capo di quello che succede a Madripor. Vediamo che collabora persino con il terrorista francese per armare i Flag Smasher quindi davvero io non capisco più a che gioco stia giocando Sharon Carter. Il fatto stesso che comunque sia stata alleata di Steve Rogers e sia la nipote di Peggy Carter e ora sia quasi una villain mi fa davvero stare male. Spero che ci sia sotto qualcosa che la redima agli occhi dello spettatore ma non ne sono assolutamente sicuro dopo che ho visto che Sharon ha chiamato il francese per armare i Flag Smasher. C'è sempre una figura losca che è quella di questa persona col biglietto da visita con scritto nulla che si approccia a John Walker dopo che ha subito questo processo in cui cercava di difendersi ma che non gli hanno lasciato assolutamente parlare vista la gravità delle sue azioni e dove ha dimostrato un eccesso di rank di fronte al congresso. Questo John Walker è stato avvicinato da questa figura che sembra un avvocato non si sa per chi lavora che è interessata a John Walker è interessata a John Walker perché sanno è palese chi abbia preso il siero del super soldato. Anche questa figura potrebbe lavorare appunto per Sharon Carter a questo punto per Power Broker oppure Sharon Carter non è Power Broker e Power Broker è interessato a John Walker per il siero non lo sappiamo magari sono due entità differenti non si riesce bene a capire oppure potrebbe esserci potrebbe esserci in agguato ancora Lidra e potremmo vedere US Agent che non so se lo conoscete ma il costume di US Agent è quello che abbiamo visto finora solo che al posto del blu c'è il nero potrebbe essere questo nuovo costume di John Walker ammesso che lo vediamo nella puntata prossima potrebbe essere un mix tra il costume di US Agent dei fumetti e il costume di Cartan America quello affiliato con Lidra a questo punto dato che John Walker si è sentito rifiutato magari dal governo degli Stati Uniti nulla gli vieta di diventare non dico affiliato con Lidra ma sfruttare dove lo manda Lidra per imporre la sua autorità quello potrebbe essere un po' tirato per i capelli ma potremmo vedere anche una cosa del genere che dire non ci resta di aspettare il prossimo e ultimo episodio dove farò ancora questa recensione vi ricordo che comunque hanno già messo le basi per quelli che potrebbero essere i nuovi Avengers perché già nell'episodio 2 avevamo visto il nipote di Isaia che dovrebbe diventare il personaggio Patriot dei nuovi Avengers e poi dovrebbe esserci in questo episodio vediamo a tutti gli effetti il personaggio di Joaquin Torres che dovrebbe diventare un secondo Falcon e in questo episodio Sam Wilson dopo che John Walker gli ha strappato le ali dalla tuta di Falcon dice a Torres tienile tu le ali noi sappiamo già che Torres è in grado di aggiustare questa tecnologia quindi può essere che se mai ci sarà una serie o un film con i nuovi Avengers abbiamo già incontrato ben due personaggi quindi il nuovo Falcon e Patriot vi ringrazio per avermi seguito fino a qui mi sono dilungato un po' più del solito ma sti cazzi fondamentalmente l'importante è chiacchierare tutti assieme scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di quello che potrebbe succedere nell'ultima puntata e sapete che eventualmente per parlare con me direttamente in chat ci vediamo ogni martedì sul sito Viola se per caso non ci sono sul mio sito Viola potrei essere ospite da qualche parte ve lo metto nella programmazione o ve lo scrivo su Instagram io nel frattempo con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video